Pino Calonico, presidente dell'Hockey Lorenzoni, femminile, squadra di bra, squadra gloriosa, insomma con tanti risultati importanti, tanti scudetti e tante coppe. È alle porte la stagione 2019-2020 con questa serata di presentazione, però riavvolgiamo un attimino il nastro, stagione quella passata, 18-19, dove sono arrivati dei risultati importanti. Lo scudetto indoor e la Supercoppa italiana su Prato, ma poi anche due secondi post importanti, è anche un bel figurare in campo europeo. Quindi, presidente, dall'occhio tuo, com'è stata questa stagione che si è chiusa? Buonasera a tutti, grazie Danilo. La stagione è stata fantastica, diciamo che le ultime due stagioni sono state da record. Siamo la squadra più titolata d'Italia e in questi ultimi due anni, come hai anticipato tu, abbiamo fatto dei risultati straordinari. Nella stagione 2017-2018, voglio ricordarla, abbiamo fatto il poker con la prima squadra di Serie A, un poker assoluto, quattro titoli contemporaneamente. Scudetto indoor, Scudetto Prato, Supercoppa e Coppa Italia. Nella stessa stagione anche i giovanili, abbiamo vinto il campionato Under-14, sia indoor che Prato. La stagione che hai detto tu, 2018-2019, è stata anche un record. Comincerei con le giovanili, che hanno fatto un record assoluto in Italia, vincendo il campionato Under-14, Under-16 e Under-18. E questo ci fa ben sperare per il futuro. Inoltre, noi come prima squadra abbiamo vinto, come hai detto tu, la Supercoppa. E anche qua, come Supercoppa, è anche un record assoluto a livello nazionale, perché è solo due edizioni che esiste, ma siamo l'unica squadra ad averla, questa Supercoppa. Inoltre abbiamo vinto anche con la prima squadra il Scudetto Indoor, oltre che in campo europeo siamo passati a livello superiore. Esatto, con il concentramento di Vienna, giusto? Esatto, sì, a Vienna. Stagione 19-20, ci sono stati dei cambiamenti, ne abbiamo anche dato notizie a quest'estate. C'è stato un avvicendamento al timone della prima squadra. Non c'è più Laura Rivero, ma come nuovo allenatore, che già però figurava nell'ambiente neuroturchese, c'è Gian Paolo Lanzano, coadiuvato da Guido Berrino, e poi ci sarà anche la collaborazione per la parte atletica di Robert Degano. Però, che cambio è questo qui di allenatore? Allora, esso è un cambio tutto braidese, è una scelta tecnica braidese. Noi dobbiamo ringraziare Lali Rivero per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Infatti, non è stata una scelta di persona, perché quello che ha fatto Lali è un record, anche suo, personale, come tutta la società. Il cambio è stato una scelta tecnica braidese da parte della nostra direzione tecnica. Però, mi dicevi prima, non soltanto prima squadra, ma anche tanto settore giovanile, dove voi puntate molto, lavorate molto. C'è anche la scuola hockey dedicata ad Indersing, quindi un lavoro che parte dalle più piccoline per arrivare poi alle più grandi. Sì, quello è sicuramente il punto di forza della nostra società. Come tu sai, le aspettative sono alte. La Lorenzoni deve sempre lottare ad alti livelli. Anche quest'anno abbiamo fatto una squadra di nuovo competitiva, mantenendo la vecchia guardia, che è il nostro piedistallo, il punto di forza della nostra società, anche per le ragazze. Inserendo già qualche Under 18, visto il buon lavoro che ha fatto Massimo Anania con i suoi collaboratori, inserendo e facendo un acquisto anche in Argentina che deve arrivare a giorni in Italia.